oila ragazzi ciao ciao mi sono messo via a guardare un po chi era giocato l'inter contro la squadra abbanese e stavo guardando un po di immagini di replay dai lights però ascoltate io nel video di oggi ho detto bisogna pensare soprattutto all'affari nostri però a certe cose non si può si può dirvi no non parlarne cioè guardate un po fatevi riparire a voi ragazzi che dire quadrato è arrivato all'inter in qualche modo bisogna subito farlo sentire a casa sua no se no si sente spaisato non riesce a dare il meglio di sé e quale e quali buon mai più buoni maestri di questi qui ci sono intanto vediamo lui ma senza tralasciare barella e tutta compagnia cantante perché ce ne sono eh è quel bello non so se è stato dato rigore ma il vizio è sempre quello vedete guardate guarda là tanto che il pallone è giù e via in avanti tuffo allungato eh guarda là tac bello tac bello eh bello però ha elasticità è bravo eh vero tac e giù vedete come si fa guardate eh tocco e poi in avanti lasciarsi andare leggeri fluttuare nell'aria eccolo là guardate eh eccolo là si inizia tutto bene una settimana prima del campionato che ci voleva di meglio vai quadrato guarda tocca a te eh ma vent'ora ti ambienti bene prendi esempio da questi che pensavi che andavi in un altro club dai sono sicuro che qui ti sentirai come a casa tua sicurissimo vai yuan fatti sognare insieme a questi qui ciao ciao